Dolore, sconforto e speranza sono i sentimenti che attraversano la piccola chiesa di San Leucio a Borgo di Montoro che non riesce a contenere l'abbraccio della comunità verso i familiari. In tanti piangono e pregano anche nella piazza antistante ascoltando dagli altoparlanti l'omelia di Don Aniello del Regno. Non c'è un perché, le parole del sacerdote che presiede le celebrazioni riecheggiano e sottolineano il dramma di un giovanissimo nel fiore degli anni che venerdì scorso si è tolto la vita. Siate forti, è stato il messaggio rivolto ai genitori, anche quando le luci si spegneranno, la comunità resterà vicina a voi. Cristo si fa carico degli sfinimenti delle folle, ha aggiunto ricordando le letture. E poi un messaggio indirizzato ai tanti giovani protagonisti, contro natura di quell'ultimo saluto, prendete in mano la vostra vita, inseguite sempre le vostre passioni, usate di meno i cellulari e dialogate di più. Non sono riusciti a trattenere le lacrime i compagni di scuola insieme alle insegnanti che dall'asilo fino alle medie hanno voluto essere presenti per ricordare Francesco. Solare, romantico, scherzoso, ironico, il tuo sogno era diventare un informatico. Hanno ricordato commossi i compagni della terza A dell'Istituto Nicodemi. Ci hai fatto sorridere senza mai escludere nessuno. Sarai il nostro angelo preferito. Vivrai per sempre nei nostri cuori. Sin dai primi istanti dell'immane tragedia il sindaco di Montoro Girolamo Giacquinto è stato vicino alla famiglia portando il cordoglio dell'amministrazione e dell'intera comunità. Hanno fatto lo stesso a autorità e associazioni riunite sgomente e silenti per l'eseque. Palloncini bianchi liberati al cielo prima di un lungo applaso al transito del ferretro bianco. Il merito si è chiuso sulle note suonate ancora dai compagni di scuola per l'arrivederci. Indossavano maglie con su scritto Francesco Vivo.